Sei attratto dal mondo delle costruzioni, ma un percorso di studi troppo lungo ti scoraggia in partenza? Sei sempre pronto a rimboccarti le maniche quando c'è da fare? Vorresti disegnare i tuoi progetti e perché no, realizzarli con le tue stesse mani? Ma soprattutto, vuoi dimostrare al mondo di che pasta sei fatto veramente? È arrivata l'occasione di far vedere a tutti di cosa sei veramente capace. Ma ricorda, ovunque tu voglia arrivare, l'importante è partire gettando le giuste basi. La scuola edile di Padova e di Stanghella da più di 70 anni fornisce ai propri studenti strumenti pratici e innovativi per creare le fondamenta solide su cui poggiare il proprio futuro. Ogni professione racchiude conoscenze fondamentali che portano a realizzare opere uniche. Da noi costruire non vuol dire utilizzare soltanto cazzuola e mattone, ma anche saper guidare macchine fantastiche come questa. O saper progettare le proprie idee per poi realizzarle. con il supporto degli insegnanti e l'aiuto dei tuoi compagni. In totale controllo e sicurezza. Dopo tre anni di studio e soprattutto esperienze sul campo, sarai pronto per fare la tua scelta. Iniziare a lavorare o specializzarti come tecnico edile o geometra di cantiere. Qualunque sia la tua scelta, i docenti e gli orientatori della scuola ti affiancheranno nel costruire il percorso più adatto a te. Ma soprattutto ti aiuteranno a scoprire il tuo potenziale e a valorizzare le tue peculiarità. Cosa aspetti? Vieni a visitare il nostro sito e iniziamo da subito a gettare insieme le fondamenta del tuo futuro.